In debito percepimento di finanziamenti comunitari, è questa l'accusa sollevata nei confronti di Pietro Isnardi e contenuta nell'avviso di garanzia che gli è stato notificato dalla Procura d'Imperia a seguito del blitz compiuto ieri mattina dalla Guardia di Finanza nell'olioificio di Ponte d'Assio. L'inchiesta fa riferimento a un contributo chiesto e ottenuto alcuni anni fa dalla Pietro Isnardi Spa e si inserisce in una più ampia serie di accertamenti nei confronti di frantoi e imprese agricole che hanno ottenuto agevolazioni dalla comunità europea tramite il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso delle Isnardi il contributo complessivo ammontava circa 500.000 euro ma in realtà la Spa ne ha ricevuti poco più di 100.000 in quanto le fiamme gialle hanno bloccato ulteriori erogazioni. La contestazione riguarda presunte false dichiarazioni relative al numero di dipendenti contenute nella domanda predisposta per ottenere il contributo. I dati riportati nella domanda infatti non conciderebbero con i bilanci aziendali. Dolo o semplice errore? Al di là di questo, secondo gli investigatori, la discrepanza sarebbe sufficiente a falsare la domanda e di conseguenza ad annullare la concessione del contributo. La Isnardi Spa non è comunque l'unica azienda oleare imperiese su cui si è posata l'attenzione degli investigatori. Sembra infatti che irregolarità al vaglio della procura siano state riscontrate anche in altre realtà imprenditoriali del territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.